Siamo in casa CNA per sentire un po' come sono andate le cose in quest'estate con il direttore Francesco Balloni, una CNA presente per quello che riguarda la formazione, per quello che avete fatto per il post terremoto, ma anche per le varie iniziative e non ultima quella di San Benedetto che ha avuto il grande successo, la famosa sfinata di luglio. Diciamo avete fatto diverse cose importanti. Sì, è stata una bella soddisfazione perché il quarto anno, la quarta edizione del Fashion Mood, eccellenza in passerella, è uscita molto bene, si sta ingrandendo come evento, sta venendo fuori sempre anche con maggior interesse da parte delle aziende, aziende che tengono quindi maggior attenzione a partecipare all'evento, ci iniziano a dire e anche a dare dei consigli per tempo, per organizzarsi e quindi consideriamo questo evento un appuntamento oramai un appuntamento fisso per quello che è il panorama sanmenettese. Ci teniamo molto a portarla avanti come teniamo molto a promuovere queste aziende anche su mercati internazionali, cosa che oggi devono cercare sempre più di fare, di fare in filiera, di fare anche attraverso delle reti e questo sta avvenendo con anche dei buoni risultati. Questo dipende comunque dalla valorizzazione che si vuole dare al Made in Italy e a quello che è tutta una filiera di qualità del prodotto. Ecco, la domanda che ti ho fatto è stata un po' complessa, tu hai precisato il prodotto estivo, però ti chiedo anche la famosa struttura che avete inaugurato ad Arquata, che giustamente dà visibilità e dà anche quel valore aggiunto a tutte quelle aziende che purtroppo sono rimaste così, senza nulla a sapere quello che è il futuro. Sì, noi siamo vicini e sensibili a questa problematica. Abbiamo lavorato dal 24 agosto stesso del 2016, da lì siamo stati sempre presenti. Quello che ci preme oggi sottolineare è che ci interessa portare avanti appunto la presenza fisica, perché il fatto di aver inaugurato la cittadella, il fatto di avere un ufficio all'interno, il fatto di aver ricollocato sette attività produttive e commerciali della zona, c'è da stimolo a servire anche tutte le altre che stanno cercando di ricollocarsi, quindi accompagniamo dall'ufficio speciale l'imprenditore che ha interesse a delocalizzare, che si sta delocalizzare col decreto della delocalizzazione sempre all'interno dello stesso comune rispetto al posto precedente e dov'era che purtroppo risulta danneggiato dal sisma. Ma stanno avviandosi anche nuove attività, stanno partendo, ci sono dei bandi. Oggi il Piceno ha le risorse per poterlo fare e quindi devono necessariamente essere informati di queste cose. Noi come CNA ed SRGM in questo caso stiamo dando il giusto supporto per quello che è una buona riuscita, speriamo, nei prossimi anni dove verranno rivalorizzati questi territori. Ci teniamo fortemente. Ecco, ci diamo appuntamento fra qualche settimana anche perché state iniziando i corsi, come sempre in questo periodo, dopo il periodo estivo cerchate sempre di sensibilizzare quelle che sono le richieste dei vostri associati e non solo. Sì, ma in realtà non ci siamo mai fermati. L'ultima volta che c'è stato il corso in questa sala è stato il 10 di agosto, quindi insomma alla fine è ripreso il 27, quindi insomma alla fine abbiamo un'attività molto sviluppata che oramai diciamo forma dai giovani, dalle scuole ai futuri imprenditori. Quindi questa è la nostra mission e speriamo di farla al meglio. Grazie Presidente. A te. A te. Grazie a tutti.